Musica Spray al peperoncino e botte per rubare i Rolex incastrati dalle telecamere due baby rapinatori 19 anni marocchini venivano da Milano in Versilia per gli orologi di lusso il colpo il 4 agosto in centro al forte, complici due sorelle pisane Meno italiani i soggiorni più brevi, sono mancati i concertoni a Lido il calo sarebbe addirittura del 20%, per i bilanci sarà da attendere il fine stagione ma sull'estate ha pesato non solo il maltempo, anche l'assenza dei grandi nomi portati lo scorso anno a Bussola Domani Renara ha preso l'assalto, è l'estate del fiume, boom di turisti ma anche di bagnanti locali fra le acque limpide di Guadini e dintorni sulle acquane massesi ma l'exploat non a tutti i massesi piace Pierucci in pole position per la corsa a Palazzo Ducale il sindaco di Camaiore parte favorito nella rosa dei candidati del centro-sinistra la presidenza della provincia di Lucca, del Ghingaro pronto invece a sostenere la candidatura di Mario Pardini per il centro-destra Ben ritrovati con informazione del TG Noi le notizie dalla Versilia, dalla costa apuana da Milano a Forte dei Marmi per mettere a segno rapine di Rolex l'ultimo colpo il 4 di agosto sono stati individuati incastrati due giovanissimi rapinatori di 19 anni sentiamo tutti i particolari su quest'ultima rapina nel servizio di Cinzia Chiappini prima hanno usato lo spray al peperoncino per tramortire lui un olandese di 61 anni e poi hanno preso a calce i pugni lei una donna italiana di 59 anni tutto per impossessarsi del Rolex da 45.000 euro che la coppia aveva appena acquistato in un negozio di Forte dei Marmi la Polizia di Stato di Milano in collaborazione con le squadre mobili di Lucca e Pisa e con il commissariato di Forte dei Marmi ha arrestato due marocchini di 19 anni sarebbero loro i responsabili della violenta rapina ai danni di una coppia di turisti messa a segno lo scorso 4 agosto nella località versiliese con l'aiuto di due sorelle pisane di 21 e 30 anni che facevano da palo i giovani avrebbero sottratto alla coppia il Rolex appena comperato e un altro orologio del valore di 43.000 euro che le vittime avevano riposto in borsa dopo aver fatto il nuovo acquisto la Polizia è riuscita a identificare i presunti rapinatori grazie agli impianti di videosorveglianza e alla collaborazione tra le varie squadre attraverso una serie di appostamenti sul territorio la banda al completo è stata infine notata a Pisa lo scorso 12 agosto mentre si dirigeva in autostrada verso il nord Italia l'auto è stata fermata e perquisita all'altezza del comune di ospedaletto lodigiano nonostante i tentativi dei giovani di occultare il bottino i poliziotti hanno recuperato i due roli exurbati a Forte dei Marmi nel corso delle successive perquisizioni domiciliari sono stati ritrovati gli indumenti indossati nel corso della rapina e una bomboletta spray al peperoncino per i due 19 anni, irregolari e senza fissa dimora è scattata la custodia in carcere in via cautelare le due donne, anche loro con precedenti, sono state denunciate a Via Reggio destano preoccupazioni fra i cittadini ma anche tra le forze politiche di centrodestra agli ultimi episodi di cronaca parliamo di rapine violente ma anche riste e furti la Lega chiede al sindaco un assessore alla sicurezza una violenta lite scoppiata nel pomeriggio di ferragosto fra un gruppo di nordafricani all'interno della stazione ferroviaria di Via Reggio un uomo sarebbe stato ferito ad un braccio con un grosso coltello si è allontanato in mezzo ai binari senza attendere l'arrivo dei soccorsi di fronte a diversi turisti spaventati per quanto accaduto le indagini sono a cura della polizia Piazza Dante e la zona della stazione in generale non è nuova a episodi simili di recente malgrado la situazione sia decisamente migliorata rispetto ad alcuni anni fa ma a preoccupare a Via Reggio sono soprattutto le ultime rapine quella avvenuta in Via Leonardo da Vinci poche sere fa ai danni di un esercente della passeggiata finita con i rapinatori che hanno investito un uomo con il figlio di un anno in braccio e soprattutto la violenta aggressione ai due bagnanti di Massarosa successa lunedì alle 20 sulla marina di Torre del Lago il 65 anni di Piano di Conca è ancora in coma farmacologico all'ospedale di Livorno dopo aver subito un intervento alla testa sul tema sicurezza era intervenuto nell'ultimo consiglio comunale il sindaco Giorgio Del Ghingaro ribadendo che la materia è di competenza di prefettura e questura organi con i quali ha costanti contatti da anni per garantire controlli ma questo non basta secondo la Lega intervenuta in questi giorni anche in merito alle risse violente avvenute sulla spiaggia lungo il Molo il governo ha fatto la sua parte perché a Via Reggio e in Bersiglia sono arrivati incrementi delle forze dell'ordine a tutti i livelli però la propria parte la deve fare anche l'amministrazione di Via Reggio che sul tema H24 della Polizia Municipale ha fatto poco e nulla se non fosse stato per la Lega che lo ha spinto continuamente che mettano la sicurezza al centro dell'attenzione della loro attività amministrativa e forse è necessario che ci sia un assessore alla sicurezza in città e magari risparmiando su consulenze che invece pariano essere servite davvero a poco non ha avuto gravi conseguenze per fortuna l'incidente che è avvenuto questa mattina all'ex campo d'aviazione siamo sempre a Via Reggio in Via Nicola Pisano intorno alle 10 un'auto si è ribaltata sulla carreggiata dopo aver urtato un'auto in sosta è successo proprio sulla via principale del quartiere all'incrocio con Via De Ambris la donna la guida 70 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Via Reggio intervenuti per estrarla dal veicolo attraverso il portellone portabagagli la signora è in buone condizioni di salute e non ha subito conseguenze per fortuna si può dire sostanzialmente illesa e si fa un primo bilancio della stagione turistica subito dopo il ferragosto c'è un calo che è ancora difficile da quantificare nelle presenze ha pesato il maltempo sin qui soprattutto quello di maggio e giugno chiaramente ma secondo alcuni operatori anche il minor numero di concerti di livello internazionale offerti a bussola domani rispetto a un anno fa soggiorni sempre più mordi e fuggi con permanenze di due massimo tre notti e c'è un netto calo dei turisti italiani mentre reggono le presenze straniere e questo in sintesi il primo bilancio della stagione turistica a Via Reggio con ancora un mese pieno di estate davanti gli operatori sperano di recuperare quello che il maltempo ha tolto ai flussi soprattutto nel mese di giugno ovviamente la settimana di ferragosto è andata bene le presenze in città c'erano le strutture erano tutte piene se invece vogliamo fare una riflessione su quello che è stato ed è l'andamento complessivo della stagione la definirei sicuramente altalenante l'italiano è diminuito purtroppo quest'anno a livello di presenze e i soggiorni sono veramente un mordi e fuggi il weekend o i tre giorni sono invece di più rispetto all'anno passato le presenze degli stranieri che fanno soggiorni più lunghi tra i fattori scatenanti della flessione secondo gli addetti ai lavori c'è anche l'impoverimento del cartellone dei concerti a Lido di Camaiore confermato anche quest'anno il programma di giugno della prima estate quello che è mancato è l'espluache che nel 2023 ha portato in zona star internazionali del calibro di Luis Tomilson Lana Del Rey e Chemical Brothers abbiamo notato che anche principalmente l'Ido di Camaiore quest'anno ha fatto un po' meno eventi dell'anno scorso e noi percepivamo molti turisti da questi eventi che l'Ido faceva l'anno scorso poi il maltempo non ha aiutato ora vediamo cosa succede in quest'ultimo mese secondo alcuni addetti ai lavori il calo delle presenze sfiorerebbe addirittura il 20% ma i rappresentanti della categoria non confermano e tagliano corto per dare i dati aspettiamo la chiusura della stagione il comandante provinciale dei carabinieri di Massacarrara Merico Di Pirro è stato promosso generale di brigata promozione che è arrivata con decreto del Ministero della Difesa al culmine di una carriera brillante che lo ha visto impegnato su tante realtà del territorio nazionale fra gli impegni maggiori quello alla guida del reparto operativo del comando provinciale di Ancona si occupò anche di quanto avvenne a Corinaldo nella nota discoteca Lanterna Azzurra ricorderete i fatti del dicembre 2018 a massa è arrivato a guida del comando provinciale nel 2020 e rimaniamo proprio a massa andiamo in realtà tra le apuane perché è un'estate che segna un boom di frequentatori locali da sempre ma anche turisti addirittura fuori Toscana per il bagno nel fiume andiamo a vedere sono sempre di più i residenti e i turisti che per il tempo libero scelgono il fresco dei monti rispetto al caldo affoso della costa le località di Guadine a Renara a Poggio Piastrone e Gronda sopra la città di massa nei weekend estivi vengono prese d'assalto dai cittadini e dai tanti turisti provenienti da Prato Firenze e addirittura Roma che cercano di sfuggire alle temperature torride ci piace diciamo scanzare un po' la grande confusione che c'è al mare di questi tempi qui si sta bene c'è fresco ci si rilassa c'è meno confusione d'estate perché c'è meno persone è un po' più avventuriero puoi fare delle belle passeggiate e poi l'acqua è più fredda e c'è chi approfitta e fa crioterapia ma diciamo da quando abbiamo preso il cucciolo ci hanno consigliato che erano posti che andavano bene per lui quando eravamo più ragazzini insomma siamo già venuti con questi posti quindi volevamo ritornarci con la famiglia con gli amici insomma ricondividere con i bambini in modo che poi anche loro col tempo possano un ricordo e magari crescendo possano tornarci anche da soli con i motorini con gli amici insomma un trasmettere l'esperienza anche ai figli nonostante il tanto criticato di vieto di transito delle auto che limita il traffico durante i weekend molti si avventurano tra l'ombra degli alberi e le pozze turchesi alla ricerca di un luogo rilassante alcuni richiamati dal fenomeno social dove circolano foto e video del fiume Massese girano anche questi video sui social e quindi abbiamo anche tramite amici avevamo già visto questi posti e poi questi social insomma ci hanno confermato la bellezza e il posto siamo venuti a vedere quindi ha avuto una funzione positiva ma in generale cosa ne pensa? sì è positivissimo però comunque richiama troppa gente invece queste sono perle delle Alpi Apuane e bene custodirle per noi locali altra perla con uscita dai locali ma a questo punto molto anche dai turisti di recente anche dalla stessa Chiara Ferragni parliamo delle piscine naturali di Malbacco per domenica è previsto forte maltempo per questo oggi la protezione civile comunale di Seravezza ha disposto il divieto di accesso per tutta la giornata di domenica 18 agosto appunto alle polle di Malbacco e alla valle del Serra a meta appunto molto frequentata durante tutta l'estate non sarà attivo domenica servizio navetta vigila il divieto di accesso al fiume in ogni tratto della vallata questo perché lo ribadiamo sono previste intense precipitazioni il fiume Serra per le caratteristiche morfologiche della zona è soggetto in caso di pioggia a un rapidissimo innalzamento del livello dell'acqua dunque ci sono dei pericoli evidenti per chi dovesse frequentare il fiume da qui il divieto ricordiamo anche nella giornata di Ferragosto sono state fatte allontanare circa 800 persone che erano presenti lungo tutta l'assa fluviale a causa dell'improvviso maltempo che si è registrato nella tarda mattinata a proposito di maltempo intanto c'è chi corre già ai ripari non ci sono allerte meteo al momento solo per adesso la fondazione versiliana ha annullato tutti gli eventi della giornata di domenica i biglietti sono rimborsabili in maniera automatica quelli acquistati su Ticket One per gli altri c'è da rivolgersi alla biglietteria al momento è confermato solo l'incontro al caffè della versiliana con il ministro Daniela Santanchè salvo spostamento in luogo coperto a porte chiuse in caso di maltempo in ogni caso verrà trasmesso su Noi TV adesso cambiamo completamente argomento la politica si avvicinano le elezioni provinciali per la corsa a Palazzo Ducale a Lucca in pole position per il centro-sinistra il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci a meno di un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste fissato al 9 settembre iniziano le manovre di partiti e movimenti politici in vista delle elezioni provinciali elezioni di secondo grado quindi voteranno i consiglieri comunali ed i sindaci della provincia di Lucca che dovranno stabilire il successore di Luca Menesini alla guida di Palazzo Ducale e il nuovo consiglio sul fronte del centro-sinistra alla Versilia invoca l'alternanza con la Lucchesia e propone come candidato alla presidenza il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci a Lucca si fanno invece nomi dei primi cittadini di Borgo Ammozzano Patrizio Andreucetti e di Pescaglia Andrea Bonfanti la scelta è questione di giorni con l'esponente del PD versiliese che sembra leggermente favorito sul fronte del centro-destra al momento non sono emerse alternative alla disponibilità alla candidatura del sindaco di Lucca Mario Pardini si tratta di un candidato autorevole ed ampiamente in grado di ricoprire il ruolo spiega Riccardo Giannoni presidente provinciale di Fratelli d'Italia passando ai numeri se prendiamo in esame solo i sindaci e i consiglieri appartenenti ai partiti tradizionali dei due schieramenti e di civici già chiaramente schierati il centro-sinistra sembra conservare diversi punti di vantaggio sul centro-destra nonostante il cambio di colore politico di due anni fa a Lucca in questo contesto un peso potrebbero comunque averlo i gruppi svincolati dai tradizionali schieramenti come ad esempio quello del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che nei giorni scorsi ha invocato la discontinuità con l'amministrazione provinciale uscente un peso che potrebbe sovvertire il pronostico ma solo se tutti o quasi questi gruppi si schierassero compattamente con il centro-destra parliamo di eventi con appuntamento con le aree pucciniane sabato sera il Corsanico festival sulle colline di Massarosa sabato 17 agosto alle 21 e 15 la storica pieve di San Michele Arcangelo di Corsanico nel comune di Massarosa ospiterà il penultimo appuntamento della stagione con un imperdibile concerto lirico dedicato ai cent'anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini la pieve nota per la sua bellezza architettonica e per l'eccezionale l'acustica sarà il palcoscenico ideale per una esibizione di cantanti lirici che affascineranno il pubblico con l'eleganza e la potenza della musica del grande maestro Torrella Ghese il concerto vedrà la partecipazione di artisti di fama soprano, tenore e direttore d'orchestra che interpreteranno alcune delle più celebre aree di Puccini siamo arrivati all'appuntamento clou della Rassegna con il concerto lirico come da tradizione ogni anno abbiamo questo appuntamento e quest'anno l'appuntamento è dedicato tutto a Giacomo Puccini nell'ambito delle celebrazioni pucciniane in occasione del centenario della sua scomparsa che cosa ascolteremo? ascolteremo brani tratti da opere e musiche orchestrali pucciniane i cantanti? i cantanti abbiamo Ilaria Casai soprano Davide Sciarrocchi tenore con la direzione musicale di Pietro Consoloni e l'orchestra dei bei legami questo penultimo evento è parte integrante della ricca programmazione culturale estiva organizzata dal direttore artistico Graziano Barzotti che ogni anno attrae numerosi visitatori grazie al festival di Corsanico lo sport il calcio con Brescia a Palermo inizia ufficialmente il campionato di serie B che vede i nastri di partenza la Carrarese oggi ultimo allenamento mattutino per il gruppo di Mister Calabro che il sabato avrà soltanto una seduta di rifinitura in vista della gara di domenica sera allo stadio Manuzzi di Cesena con i neopromossi padroni di casa Bianconeri nello scorso campionato in serie C le due squadre si affrontarono il 30 ottobre il Cesena si impose per 2-1 con doppietta di Carbo per la Carrarese il gol fu stiglato da Di Gennaro ed è davvero tutto per questa edizione mi fermo qua vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con Noi TV